Il primo articolo del giornale ho fatto a 15 anni la corsa ciclistica in montagna ad Acqua Santa poi si va su aiutatevi ai paesi Ho fatto il giornalista al resto del carrino ho 80 anni io vivevo di indiscrezione volevo sapere notizie io giocavo a pallone nell'Ascoli io ero senza avanti ero vissuto al campo sportivo di Ascol mia madre alla sera mi veniva a trovare se vuole vedere venire al campo sportivo non 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 non